io lo faccio chat, inutile di, ho tutte le carte, ho due albatross dorati, eh eh, lo facciamo, ovviamente lo facciamo, se lo dice zetalot insomma, se lo dice zetalot non è che lui gioca l'albatross, lui lo tiene nel mazzo, solo come mascotte, no, è letteralmente l'unico Deathrattle, perché vuole essere sicuro che gli unici Deathrattle siano quello di Karj e quello dell'albatross, credo, quindi in realtà lo tiene, non so cosa fare io però direttamente da Final Fantasy 8, Zeldincho, welcome to the family è un grande onore, man, grazie, grazie del supporto, raga, 114 sub oggi, non so cosa dire distruggerei tutti gli esseri viventi, distruggerei tutti gli esseri viventi, d'accordo, non credo che sia un meme l'albatross è chiaro che se dovesse diventare forte, io spero che non diventi forte, perché se diventasse forte l'albatross fondamentalmente avremo un problema, perché c'è sempre la 2 mana 3-2, l'hanno messa in questo set che scambia le carte uno male che va a giocare quella tech, anziché prendersi degli albatross, si prende delle carte e vediamo, vediamo, psicopompo, psicopompo, forse non avrei dovuto, forse non avrei dovuto giocare i drop in curva cioè forse avrei dovuto giocare solo l'albatross e garantirmi lo psicopompo sull'albatross che cosa dicono le carte? not even kidding, ormai lo faccio, però forse ho sbagliato distruggere tutti gli esseri viventi una visione, tra le piaume chat, ma lo vedete quante volte lo facciamo? io devo capire qual è il limite io devo capire qual è il limite dove finisce il meme e dove inizia il deck perché qua, se io avessi preso tipo il ritual che cosa dicono le carte? e dragon paladin mi ha sorpreso molto in positivo perché lo davo per inesistente invece fare delle 10-11 intergettabili che costano 4 o 2 mana si sente ho provato parent warrior, ho vinto ma non so se ho vinto per merito dei miei avversari più che mio oh mio dio chat, oh mio dio io non so qual è il limite oh mio dio chat chat, dobbiamo iniziare a contare quanti gliene mettiamo ciao amico ciao amico oh mio dio 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 cantate due chat, contate? finito Credevo me l'avrebbe ridato Correborn Io ce l'ho ancora in mano chat Abbiamo ancora altri due Sei Otto Dieci Chatt questo coglione qua poverino inizierà a pescare solo pezzi 1-1 Non giocherà più niente Cioè questo c'ha 12 1-1 su 28 carte E noi stiamo pescando male ve lo dico Le nostre case Le nostre tombe Trada le nostre case e le nostre tombe chat Siete prigionieri Del vostro stesso combo 16 Mettendo questo per altre combo ovviamente 16 su 31 chat 16 su 31 sono dei cazzo di 1-1 15 Talanji Oh my god Vediamo Vediamo La galassia Ha trasformato tutte quelle 1-1 in delle 1-1 Guarda già quanti ne ha presi Ma che non c'è un cazzo da ridere Tutte quelle Queste sono tutte pescate morte Cioè è una roba indegna Chat 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 Oh signore Dio Chat Chat Oh Le nostre case Le nostre tombe Oh Adesso siamo amici Ma poverino giocherà solo Albatross da questo momento in poi lui Poverino Io questo lo gioco adesso perché in realtà lui giocherà solo 1-1 andando avanti Credete che questo sia il vostro tempo? Ma è il mio Che faccio meglio a prendermene ora Sarà meglio che io metta ora il pezzo perché davvero lui fa solo 1-1 da questo momento in poi 34 carte sono più di 20 1-1 Scudo di Galakrond Scudo di Galakrond Siccome lui farà Flamestrike da 8 danni E' importante mettergli ancora altri Albatross Chat 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 Lui Giocherà soltanto delle 1-1 Quindi a questo punto non ha nessuna importanza neanche quello che facciamo noi Perché tanto lui giocherà solo delle cazzo di 1-1 Cioè non ce ne frega niente 5 mana 5-5 pescano 1-1 3 mana pesca 2-1-1 3 mana pesca 2-1-1 Però ti devo dire una cosa man questo è mio Quello è mio Muro zonde Nice Sì ha fatto il suo volere Oh madonna Dopo ha 41 carte nel mazzo non vale Se sono tutte 1-1 secondo me Oh maligos Poggers Attenzione Non ha fatto Attenzione Ha fatto una carta vera Porto la vita E la speranza Porto la vita E la speranza Boys Allora Cazzo vorrei fare un muro zonde Però ovviamente non posso Mamma mia Ma che sfiga Cazzo Vabbè Finito Ma cazzo L'unico trade Con il quale non muore Con massisteria Quello lì Ma dai Figa Finalmente L'immortalità Io sono Nazi Mi ha fregato L'uno Mi ha fregato l'uno 1-1 Sì Zephrys non credo che si attiverà Effettivamente Zephrys non credo che si attiverà È vero Anche qua vorrei fare muro zonde Però Tutti Tutti sti danni Ma Ce l'avevi in mano H Mi chiama Che sfiga Che c'ho Con sta Cazzo di coso Ammazza 3-4-4-10 Ha fireball Da 8 in mano 100% Sì Può essere Può essere Può essere Ha preso un'altra carta vera Chat Merita il goose deck È la prima partita che facciamo Caro Io mi sto spisciando Non rompi capo di Yogg Va bene Oh Le 1-1 Sono delle 3-3 Oh mio Dio Scherzi Guarda Albatross alla riscossa Albatross alla riscossa Cazzo Allora io potrei fare muro zonde per fare le spell anch'io Che è molto meme Oppure potrei fare piaga della morte E Cioè Chiuderla lì Non lo so Onestamente Mim Mim Chiudi la meme Drago Drago Muro a zone Muro a zone Vedete che questo sia il vostro tempo Ma è il mio Eh Go Per te Per te Per te Per te Per te Per te Ah Mi ridà La spell a 0 Che figo Il tempo sta scadendo Spezzo la tua mente Ah 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 Birbante Ah Birbante Non si fa La farbo la 8 Hai vinto Stavolta Ok La spell a 4 Va soltanto Su quel cazzo di Albatross E quando non è sull'Albatross Va su Andateika D'accordo? Hooray Grazie a tutti!